La situazione a livello del Paese continua ad essere buona e l'RT al di sotto di uno su scala nazionale. Naturalmente persistono le differenze nell'incidenza da regione a regione. Sono presenti dei focolai, anche di una certa rilevanza, che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente. Ciò induce a mantenere comportamenti adeguati e soprattutto a identificare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come attualmente si sta facendo.